Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Quest'oggi, essendo giovedì, ci occuperemo in entrambi i casi di questioni che hanno a che fare con problematiche sociali. Nella seconda parte saranno con noi Paolo Parisini ed Enea Bordon della comunità di Sant'Egidio. Parleremo dell'emergenza derivata dal conflitto fra Russia ed Ucraina e parleremo anche del servizio di strada senza fissa dimora. Nella prima parte invece è tornata a trovarci Valentina Gariuolo, che è la responsabile della Young Caritas di Trieste, con la quale parleremo della Corsa dei Miracoli che è in programma domani. Era ora che tornasse perché negli ultimi due anni non si era potuto fare per questioni collegate alla pandemia e adesso per fortuna questa iniziativa torna domani. Sì, 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 con noi siamo veramente tanto contenti anche per l'impatto che poi ha avuto, anche l'adesione che c'è stata. Non abbiamo potuto realizzare con le scuole, anche se abbiamo fatto altre attività ovviamente, perché l'ambito è quello comunque della sensibilizzazione delle scuole. Abbiamo un problema con l'audio dell'ospite, adesso lo risolviamo. Non so se si è sentito quello che la dottoressa ha detto, l'iniziativa ritorna e le scuole triestine hanno risposto più che positivamente, perché sapete che questa iniziativa che poi ci verrà illustrata, diciamo così, nello specifico, è un'iniziativa che punta molto sul coinvolgimento delle scuole. È necessario che le scuole appunto vi partecipino. Sorridevo perché il nostro camera me ne è passato giustamente davanti alla telecamera. Della diretta, no? Ma sì, insomma, succedono queste cose, è inutile fare acrobazie, eccetera. Allora, le scuole hanno risposto? Sì, le scuole hanno risposto veramente incredibilmente. Ecco, quando a settembre scorso si è parlato insieme al direttore delle attività da proporre appunto nelle scuole, direttore Don Alessandro Modeo, e si è pensato appunto alla corsa, Don Alessandro e Don Alessandro hanno detto, beh, ma proviamoci, perché no? No, però era in un momento ancora di emergenza pandemica, che è terminata il 31 marzo, per cui noi fino al 4 aprile scorso non sapevamo se il Comune ci avrebbe poi concesso la possibilità di utilizzare la piazza e tutte le concessioni che sono necessarie per la corsa. E devo dire che effettivamente fino al 4 di aprile c'erano state alcune adesioni, però non sapevamo se avremmo potuto fare la manifestazione. E da quando è arrivata, insomma, grazie ovviamente all'impegno del Comune, che da sempre ci supporta e ci segue in questa iniziativa, all'assessore Rossi in particolare, ma insomma anche tutti gli uffici preposti, perché poi sono tante le cose che ovviamente bisogna in così poco tempo, perché tutto è rimasto abbastanza poi compresso. E quindi si è attivata la macchina organizzativa, ogni tassello è andato a posto, e effettivamente poi domani arriveranno oltre 1600 studenti, che per noi è un numero incredibile, considerando appunto che fino al 31 marzo c'era un'emergenza pandemica e queste manifestazioni non potevano pensarsi. E considerando anche che, immagino, lo stop di due anni poi in qualche modo anche disabitua. Infatti, infatti la risposta è stata veramente incredibile, anche perché abbiamo potuto ritornare a presentare l'iniziativa della Iancaritas in presenza nelle scuole, perché ricordiamoci che anche la Corsa dei Miracoli è una corsa di beneficenza, ma che parte con un approccio che cerca di far capire agli studenti che è importante sensibilizzarsi ai temi poi che è la carità stratta, quindi anche di vicinanza all'altro, di attenzione, di aiuto, di supporto vicendevole. E poterlo fare in presenza, e non attraverso ovviamente una videoconferenza, anche se Iancaritas ha continuato comunque anche in questi due anni a mantenere le proprie attività nelle scuole, però poterlo fare in presenza nelle classi ha dato probabilmente anche questo un risvolto molto positivo alla partecipazione. E devo dire che quest'anno alcune scuole storiche, che proprio per motivi credo legati ancora all'emergenza del 31 marzo, non partecipano, però ne sono arrivate quattro nuove, e quindi questa è la novità anche di una Corsa che si proietta nel futuro, e anche che vede una partecipazione degli studenti nell'organizzazione della Corsa stessa molto più presenti domani ci saranno 40 ragazzi studenti del Deledda Fabiani che mentre correranno aiuteranno comunque i giudici federali a registrare tutti i percorsi finiti degli altri che nel frattempo stanno correndo, degli altri loro coetanei o studenti che stanno correndo. e ci sono 20 ragazzi del CHOPS tra ragazzi e studenti che verranno a dare una mano proprio nella collaborazione dell'organizzazione della Corsa e quindi saranno con noi sin dal mattino alle 7, 7 e mezza per organizzare i percorsi. Quindi c'è una voglia di partecipare attivamente a un po' tutte le fasi anche dell'organizzazione che pian pianino sta prendendo piede. Come funziona la Corsa? Perché ci sono degli elementi molto curiosi, no? Sì, allora la Corsa viene rappresentata ovviamente nelle scuole a settembre come progetto, no? Ed è una Corsa ovviamente di beneficenza che cerca insomma poi con il ricavato di aiutare le situazioni più in difficoltà seguite dalla Caritas appunto. Caritas in generale? In generale, allora in realtà la raccolta anche quest'anno presentata alle scuole è rivolta a sostenere i progetti di Casa la Madre. Ok. Anche se appunto poi è in generale perché si rivolge ovviamente a un aiuto a mamme o donne sole o mamme con bambini. E quindi anche in questo momento la Caritas ovviamente è impegnata anche che è tutta un'altra serie di accoglienze, come giustamente diceva prima, anche relative alla situazione che si vive, per cui su vari fronti, ecco, si impegna su vari fronti. Però la Corsa ancora quest'anno darà il proprio aiuto in beneficenza appunto alla Casa la Madre. e quindi nel sensibilizzare gli studenti alla Corsa, loro sanno che devono cercarsi un proprio sponsor. Questo sponsor è particolare, no? Sì, perché questo sponsor può essere ovviamente il parente più prossimo, più vicino, ma può essere anche un'azienda, il lattaio, l'edicolante, chiunque può fare da sponsor. E quindi il partecipante, lo studente, quella mattina corre e realizza il proprio numero di giri nel tempo che è stabilito. Sono dieci minuti di corsa. Ah, dieci minuti, ok. Sì, e dopodiché prima della Corsa deve aver trovato il proprio sponsor, quindi deve averlo sensibilizzato sul fatto che quella mattina lui correrà, ma lo fa per quel motivo preciso e che poi verrà aiutato appunto dal proprio sponsor nel cercare di dare un aiuto economico. Quindi al termine della Corsa, nei giorni successivi, inviamo la documentazione relativa a ciascun giro terminato, ai partecipanti, e loro devolvono quello che ritengono. Ecco, gli studenti poi fanno quello che possono, quello che ritengono. Questo è molto curioso per dire l'età, perché mette insieme più, come posso dire, più realtà. Esatto, perché mette la realtà della scuola, anche perché appunto ci saranno da scuole dell'infanzia alle scuole secondarie di secondo grado. Che sono le superiori, diciamo le superiori, la prego perché... E domani ci saranno 15 scuole, ovviamente in momenti diversi, perché si arriva scaglionati e si corre comunque con tempi diversi, però... C'è il Dante? Non c'è il Dante. Non è possibile, la prossima volta farò presente. Però ecco, ci sono, ad esempio, c'è il Nautico Galvani, che per la prima volta quest'anno partecipato alle scuole secondarie di secondo grado, con nove classi, quindi c'è stata veramente un'adesione, sì, particolare. Si parte dagli elementari? Si parte dalla scuola dell'infanzia, ci sono i piccolini anche di tre anni, che domani mattina faranno il loro breve tratto di corsa. Voglio vedere gli sponsor, sarebbe curio. Beh, per i piccolini, sì, viene data subito la medaglia, loro terminano il loro percorso e vanno poi via, e gli altri invece aspettano poi le premiazioni. A che ora si incomincia? Iniziamo alle nove. Alle nove, ah, ok, perfetto. Con i più piccoli? Con tutti, si parte con tutti e poi ogni dieci minuti c'è il nuovo gruppo che entra, mentre gli altri escono e si aspetta le premiazioni. Una mattinata in corsa per tutti. Quanto tempo dura più o meno? Noi iniziamo alle nove e contiamo di terminare entro le 13.30-14, con tutte le premiazioni e tutto. Ecco, ovviamente è una manifestazione che vede l'aiuto e la collaborazione, come anche negli anni successivi, di volontari singoli che vengono a dare una mano quella mattina, ma anche di associazioni. Ad esempio, Trieste Altruista, l'associazione Marinai Italiani, che anche domani saranno presenti in due turni, appunto, diversi, proprio per anche garantire un ordine. l'associazione, oltre quella sedia, con i loro ragazzi e poi gli sponsor, la Trip Mare, che da sempre aiuta questa iniziativa. siamo a Mission. Ah, erano qua poche settimane fa per parlare di rugby, mi pare, se non mi sembra. Anche sì, sì, perché anche sì, è l'eliotecnica dal baffo e poi sì, tutte le persone che vengono a dare una mano, ecco, anche i volontari singoli. E quanta gente più o meno gravita, allora diciamo così, attorno all'iniziativa? Se si può fare un conto, non è difficile. Saremo oltre un centinaio di persone. Oltre un centinaio. Consideriamo poi invece l'apporto anche importantissimo della Polisportiva San Giacomo, che anima e che cerca di preparare anche con un po' di riscaldamento i piccolini, soprattutto i piccolini al momento della partenza, ma anche i giudici federali della FIDAL che ci sono e che danno anche questa ufficialità di corsa, anche se non è una gara vera e propria, però è strutturata in modo tale che possa essere considerata comunque valida. Ma di dato anche il ristoro c'è alla fine? Allora, ecco, quest'anno avremo la bottiglietta d'acqua, ma non avremo il traggio di pizza. E faremo il prossimo anno, perché ci sono comunque le norme Covid da rispettare. E allora possiamo, ad esempio, dobbiamo anche far tanta attenzione alla distanza interpersonale e quindi laddove non è possibile garantire un metro, le scuole sono tutte avvisate che i ragazzi correranno senza mascherina, ma nell'ipotesi anche dell'attesa per le premiazioni o comunque devono avere con loro la mascherina e sapere che devono metterla laddove non riescono a stare a un metro di distanza l'uno dagli altri. Quando è nata l'iniziativa? L'iniziativa è nata nel 2013. Ah sì, nove anni, nove edizioni però considerate. Questa è un'ottava, sì, perché per due anni abbiamo dovuto fermarci. Però effettivamente da allora è cresciuta molto, ma è cresciuta in consapevolezza nelle scuole, nella partecipazione con le scuole e anche con il comune e con tutte le realtà che poi sono coinvolte, ecco, a vario titolo. Il periodo è sempre stato grosso modo questo, se non mi sbaglio, insomma, a primavera già inizia poi, insomma in questi giorni quantomeno dovrebbe esserci il sole e speriamo che vada tutto quanto bene. Come vengono, dunque, ognuno viene seguito da un giudice, come funziona poi il periodo? Allora, parte la classe tutta insieme, quindi può, la classe può essere formata da 20, 25, al massimo 25 alunni e ogni giudice, lo chiamiamo giudice, ma questi ragazzi che comunque arriveranno 40 ragazzi da Fabiani seguiti dalla loro professoressa di scienze votorie, hanno delle cartelline già preparate e predisposte e seguiranno uno o due ragazzi, studenti per percorso e quindi avranno il tempo in 10 minuti di verificare il completamento dei giri fatti. Ed è un... prego, prego. Sì, al termine, tutte queste cartelline che vengono siglate, vistate, vengono raccolte e un collega Caritas, che poi è quello che riesce veramente a fare i percorsi, a fare il collega Massimo Pezzotto, in tempo reale fa la classifica per le previazioni. Quindi... E tutto si svolge, diciamo così, senza soluzione di continuità, cioè non ci si ferma perché parta un'altra batteria, diciamo così. No, 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 perché è nei 10 minuti che corre intanto una prima batteria, si prepara già la prossima batteria in quattro percorsi diversi e parte poi immediatamente al termine appena escono la batteria precedente, entra la nuova. E si corre lungo Piazza Unità? Sì, sì, si corre solo in Piazza Unità, è un percorso fatto da birilli, circolare, un anello circolare, quindi sanno che devono andare e tornare per 10 minuti. Ok, devono stare attenti anche alla piazza che è un po' così. Sì, sì, ma non devono andare veloci, devono vivere la cosa in modo anche divertente, allegro, possono anche camminare perché l'importante è viverla anche con serenità, non si va lì per prendere la metà. Immagino che abbiate già preparato anche tutti, o riuscite a prepararlo in mattinata, no, è difficile? I percorsi? I percorsi domattina, sì, perché Piazza Unità ci viene concessa domattina, dalle 7 fino, noi abbiamo la possibilità di utilizzarla fino alle 17. Però ha mai rodato anche il, quindi sapete… C'è veramente tanti tanti bravi collaboratori per cui riusciamo veramente in tempo brevissimo ad allestire tutto. Senta dottoressa, parliamo un po' di più questa volta di Young Caritas, perché noi abbiamo sempre parlato dell'attività della Caritas, diciamo in generale, non ci siamo mai soffermati su Young Caritas, perché intanto l'aggettivo Young che cosa inquadra? Inquadra, come posso dire, un aspetto dell'azione della Caritas, o riguarda appunto il fatto che sono giovani a comporre questa sezione di Caritas? No, no, è chiaro, è un aspetto dell'azione della Caritas, sì, ha una sua vera e propria identità e la sua funzione è quella appunto di non soltanto avere un impegno nelle scuole, di sensibilizzare le scuole, le tematiche appunto che la Caritas tratta e ha, ma a sollecitare i giovani anche a una partecipazione attiva nella società. E da anni che portiamo avanti in Young Caritas, ad esempio, il servizio civile solidale, che è un servizio civile fortemente voluto qui nella regione Friuli-Venezia-Giulia e solo in questa regione, che consente ai giovanissimi, non ancora maggiorenni, tra i 16 e che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età, di fare un'esperienza di volontariato presso gli enti che progettano per il servizio civile solidale, che è considerato alla stregua del servizio civile universale. E poi l'anno scorso abbiamo progettato e abbiamo ottenuto la possibilità di rifare l'esperienza del servizio civile universale, per cui quest'anno, il 25 di maggio, iniziano due giovani volontari presso una delle nostre strutture di accoglienza. Per cui riprendiamo anche questa esperienza. Tra l'altro noi la scorsa settimana, adesso non mi ricordo quando, forse direttamente giovedì ci siamo occupati del servizio civile, perché, lo ripetiamo, è un'istituzione della quale magari, diciamo così, si erano perse le tracce, perché logicamente veniva vista, come in realtà era, come un'alternativa al servizio di leva e quindi adesso non essendo il servizio di leva obbligatorio, magari molti avranno anche pensato che il servizio civile non esistesse più. Invece il servizio civile esiste e noi ne abbiamo parlato la scorsa settimana. Con due ragazzi, tra l'altro, che avevano organizzato un'iniziativa sabato scorso per l'associazione italiana lotta alla sclerosi multica. Sì, molti enti infatti del sociale concorrono in questa progettazione, perché è una progettazione vera e propria. Il servizio civile universale è voluto dal Ministero, per cui ha tutta una serie anche di normative precise. Però ci sono molte associazioni no profit che hanno ragazzi in servizio civile. Voi dove? Cosa li farete fare? No, loro faranno un affiancamento ovviamente agli operatori presenti nella struttura e inizieranno a capire anche cosa vuol dire affiancare un servizio così impegnativo come è quello dell'accoglienza. Sì, perché non è poca cosa. Non è semplice, no. E poi bisogna comunque avere anche una certa attitudine, perché sono ambiti e situazioni dove… Sì, immagino che si entra in contatto con delle realtà non sconosciute, ma che non si conoscono mai a fondo, fino a quando appunto non le si frequenta o non vi si è in qualche modo più coinvolti. Torniamo a Young Caritas, se no perdo il filo. Tutte le Caritas, diciamo così, hanno una sezione dedicata… Allora, noi ci siamo strutturati appunto come Young Caritas, che in realtà è un marchio che molte Caritas adesso stanno acquisendo. Però tutte le Caritas sono rivolte anche al mondo giovanile, magari sotto il nome di mondialità, sotto il nome giovani, no? Non Young Caritas, proprio col marchio Young Caritas, come abbiamo scelto anche noi di aderire. Però sì, c'è tutto un lavoro anche di reti tra le varie Caritas e di scambi anche di progetti che ci consente poi di essere attenti a questo ambito. Viceversa, vediamo se posso, se riesco ad adentrarmi in un altro territorio. Caritas poi è logico che, per altri versi, o comunque per quello che è il verso del lavoro quotidiano di Caritas, entra in contatto anche con giovani che hanno necessità, che sono in condizioni appunto di necessità. Lì immagino che l'approccio deve essere uguale ma diverso. Sì, sì, diciamo che esistono anche realtà dove in Caritas comunque si dà la possibilità un po' a tutti anche di venire a sperimentare i servizi, di venire a capire cosa si fa, però sì, ci sono degli approcci e delle modalità diverse. Quali sono i giovani che voi riuscite ad intercettare? Cioè sempre di più sono convinto un po' per frequentazione di amici eccetera, un po' anche dagli stessi giovani che magari abbiamo la possibilità di intervistare nei nostri studi. che generazione è quella dei giovani di adesso? A me sembrano molto più, come posso dire, molto più compresi, molto più compresi nel senso che sanno quello che vogliono, mi pare di capire. Bravissimo, bravissimo. E sono più in sintonia, mettiamola così, con la realtà anche dell'attualità di quanto non lo fossero qualche anno fa. Non so se è una mia... No, no, ma è giustissima la deduzione. Infatti questo è anche un risvolto molto positivo che abbiamo notato andando nelle scuole, che appena si toccano questi argomenti anche che alle volte sono difficili da trattare, no? E c'è comunque un'attenzione che magari due anni fa, tre anni fa era meno sentita, era meno avvertita. E allora si mettono in gioco, hanno voglia di fare. Infatti quest'anno anche la corsa vede la partecipazione attiva di studenti che loro in prima persona si sono voluti impegnare, sono venuti a chiederci ma io cosa posso fare durante la corsa? Posso aiutare in altro modo? Infatti anche l'anno scorso quando abbiamo fatto le selezioni per il servizio civile solidale che appunto è un servizio che è rivolto ai ragazzini tra i 16 e i 17 anni a parte sono arrivate veramente tantissime domande che non ci aspettavamo ma loro sapevano bene, avevano già letto di che cosa si trattava il servizio che l'ente, la Caritas proponeva ed erano già disposti a dire io rinuncio ai due mesi d'estate perché voglio fare questa esperienza cosa che due o tre anni fa Forse sì Si percepiva di meno, era più difficile anche facendo alcune domande precise ai ragazzi trovare delle risposte anche schiette, anche pensate era tutto un po' più nebuloso quindi evidentemente c'è questa percezione che i giovani oggi anche i giovanissimi hanno voglia di impegnarsi ma non in maniera, come posso dire, nella maniera giusta ecco, cioè non è un impegno da sbandierare esatto o se lo è, è fatto diciamo con, però non è il mito del giovane impegnato, non è quello fasullo che si potrebbe pensare tra l'altro poi è anche vero probabilmente che molti ritengono un loro impegno nella società anche come una sorta anche di risposta a questi due anni in cui hanno visto c'è stata l'altro giorno un nostro ospite, una ragazza che ha detto, io avevo dei miei compagni di classe che mi telefonavano in lacrime per via del lockdown non poter vedere nessuno eccetera, credo che sia qualcosa di assolutamente devastante per dire la verità come si fa invece dottoressa a, che lì credo sia un problema nel senso i giovani e il volontariato diciamo più strutturato perché i poveretti non hanno nemmeno tempo immagino o comunque si riesce magari a... sì sì, ecco, in realtà si scopre poi che quando il giovane, il giovanissimo vuole impegnarsi è vero che ognuno decide il proprio tempo, quello che riesce perché anche il servizio civile solidale comunque se fatto durante tutto l'anno sono 360 ore tra la scuola e lo sport o le altre attività è ovvio che è un tempo che devi sapere iniziare a gestire però se il ragazzo decide di fare questa esperienza, se il giovane la fa più consapevolmente e anche qui trovate delle diversità, delle differenze, meglio dire, rispetto agli anni scorsi? ma quando iniziano a fare volontariato si interessano, no? la continuità c'è comunque, no? questo... ho capito, ho capito sì, l'interesse è anche, no? magari poi ecco fanno altre scelte anche personali, di studi, vanno magari via poi tornano, ci si rincontra e dici però quell'esperienza che ho fatto è stata veramente importante è stata formativa in ogni caso e questo fa piacere, perché dice allora vuol dire che... qualcosa è stato seminato sì, esatto, perché poi facciamo un po' anche questo, no? cerchiamo di... allora, cominciamo, dobbiamo, ci avviciniamo alla fine quindi dobbiamo ricordare ancora qualcosa dell'appuntamento di domani logicamente le iscrizioni sono chiuse perché passano attraverso le scuole però magari, non so, per esempio domani se qualcuno viene da voi incuriosito da quello che sta succedendo, eccetera magari può informarsi su che cosa è Caritas su che cosa sta facendo perché, allora, l'abbiamo detto tantissime di quelle volte ma Giova ripeterlo, Caritas non è solo le ragioni per cui se ne parla nei telegiornali chiamola così c'è un lavoro costante, continuo sì che non si vede, meticoloso, certo e che però poi alla lunga diventa evidente e che poi vi porta soprattutto a contatto con delle realtà che noi possiamo forse nemmeno immaginare, credo ecco, Ian Caritas in particolare ha questo compito di sensibilizzare sì la collettività ma di proiettarsi sempre un po' verso il futuro perché proprio riguarda i giovani quindi dare un segnale anche di speranza di ripresa, di possibilità di andare oltre e proprio per restare poi nei termini della corsa credo che quest'anno veramente sia fondamentale la ripresa che c'è stata proprio come termine di speranza è vissuta veramente con una voglia di partecipare di essere presenti che ci ha veramente colpito ecco allora io ringrazio Valentina Gariguolo che è la responsabile di Ian Caritas per Trieste buon lavoro domani ma non solo domani e grazie per essere stata grazie a voi per la splendida ospitalità sempre grazie dopo la pubblicità rimaniamo in tema parleremo con due esponenti della comunità di Sant'Egidio seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta come è annunciato parliamo del lavoro della comunità di Sant'Egidio lo facciamo con Paolo Parisini che torna nei nostri studi e con Enea Bordone che se non sbaglio si occupa proprio del lavoro dei giovani della comunità di Sant'Egidio quindi siamo anche in una specie di continuità con ciò di cui abbiamo discusso nel segmento precedente posso chiederti quanti anni hai? sì 23 23 anni giovanissimo quindi mi fa gioco per la prima domanda nel senso che mi sto rendendo conto frequentando amici che hanno figli più o meno di questa età eccetera ma anche grazie agli ospiti che vengono poi nei nostri studi che quando parliamo con voi parliamo con una generazione abbastanza diversa rispetto a quella a quella che l'ha preceduta cioè mi sembrate adesso per l'amor di Dio molto impegnati ma nel modo giusto cioè senza esporre il vostro impegno senza sbandierare mettiamolo così il vostro impegno però molto più attenti alle questioni di stretta attualità e molto più disposti anche al dialogo con le generazioni precedenti non so se una mia se io ho fortuna di incontrare sempre questo tipo di giovani eccetera però siccome questo tipo di riscontro ce l'ho anche da altre persone mi pare di capire che siete una generazione sulla quale si può puntare detta così ringrazio a nome di tutta la generazione allora senz'altro l'ostentazione non fa bene a nessuno e non serve ed è inutile e rispetto invece all'impiego del tempo il tempo secondo me è il dono più prezioso che possiamo avere saperlo investire bene è fondamentale e quindi quando c'è la possibilità di impiegare il proprio tempo in attività che non siano esclusivamente finalizzate sì alla propria crescita personale culturale è assolutamente imprescindibile ma che siano anche finalizzate magari ad aiutare gli altri è un bel impegno ed è un tempo ben speso mi verrebbe da dire ecco come si trova questo tempo perché certamente la vostra generazione quando uno potrebbe dire beh beh ma hanno tempo però insomma per chi studia non è semplicissimo non è che chi studia all'università può permettersi cioè non è semplice no infatti il tempo non va sprecato io studio all'università insegno all'università e quindi come dire quello occupa una grande porzione delle mie giornate però ci sono delle attività mi sono reso conto anche in questa prima esperienza che ho fatto all'estero all'università all'estero che vale la pena perseguire e che perché alla fine ti danno molto di più come dire quello che l'impronta che lasciano è un'impronta che forma la coscienza e che quindi consente come dire di maturare a fianco al percorso universitario nel sociale ecco voi di che cosa vi occupate come cioè c'è una sezione diciamo così particolare nella comunità di Sant'Egidio che riguarda i giovani che affida faccio parlare parisini perché se no per carità no nel senso c'è un settore particolare dedicato a loro in entrambe come posso dire sia che vede loro coinvolti come volontari e magari che vede anche dei giovani come dire ricevere quello che Sant'Egidio dà il volontariato giovane in Sant'Egidio ha due collocazioni principali gli studenti della fascia di scuole superiori sono impegnati nel dopo scuola della scuola della pace che bellissimo secondo me esatto che si tiene nei locali della parrocchia di Santa Teresa di via Manzoni via Manzoni e questo è un servizio molto bello perché oltre a affiancare i bambini provenienti da famiglie insomma con qualche problema o anche semplicemente problemi di integrazione alcune volte oltre a affiancare appunto nei compiti c'è anche un discorso proprio di educazione alla pace che di questi tempi direi che è prioritaria non è più accessoria ma è prioritaria i ragazzi invece universitari di cui Enea appunto è responsabile sono impegnati invece nel discorso del servizio di strada senza fissa dimora in particolare è una realtà composita abbiamo già avuto modo di parlarne non incontriamo soltanto persone che non hanno un tetto ci sono anche persone che magari hanno un tetto ma fanno una vita di strada ecco sostanzialmente sono più fuori strada che fuori in strada che è a casa il volontariato giovane è bello soprattutto perché dà molto anche alle persone che incontrano cioè i senza fissa dimora non sono abituati a essere frequentati a parlare con persone giovani invece lì trovano appunto una familiarità abbastanza originale e molto simpatica c'è un clima di amicizia anche reale molto tangibile ecco tra i giovani e i senza fissa dimora di cui sicuramente Enea è testimone diretto ecco come è brutto usare questo termine come lavorate con loro nel senso certo Paolo abbia utilizzato la parola più azzeccata familiarità si viene a creare una comunità che diventa come dire manifestazione di amicizia sincera genuina con le persone e quindi una sorta di momento nel quale si può stare insieme per chiacchierare per raccontarsi come vanno le cose e rendersi conto che di fatto siamo tutti umani e ognuno può avere la difficoltà del momento o la sorpresa della giornata che vale la pena di essere raccontata e quindi questo rapporto amicale che si viene a ingenerare che si viene a creare con le persone e forse diciamo il fattore o il dono più prezioso che uno ricava da questo è vero che poi noi operiamo soprattutto il venerdì come gruppo giovani ma Sant'Egidio poi si occupa anche di queste persone in altre giornate della settimana e noi come gruppo giovani lavoriamo il venerdì poi qualcuno di noi anche il sabato ha lì e altri ma l'idea è quella di andare insomma a aiutare le persone che non hanno una cena non possono permettersela e magari preparare dei pasti caldi piuttosto che dei panini con sempre delle bibite e andare incontro e come adesso questo è un termine ancora più brutto ma non me ne viene in mente un altro come li intercettate nel senso dove no è una domanda una domanda importante questa in maniera dire allora le persone poi le voci corrono quindi le persone si parlano c'è una bellissima rete ci sono delle dinamiche all'interno delle persone che vivono in strada noi li chiamiamo amici della strada quindi si conoscono tutti e si parlano e si aiutano a vicenda si vede veramente la solidarietà tant'è vero che magari qualcuno che non riceve un panino perché magari è arrivato tardi e ci accompagnano ancora dei nostri amici e ne hanno presi due vengono a offrirlo a questa persona questo si è visto tante volte è una cosa molto valida molto bella li intercettiamo semplicemente camminando nei pressi della stazione facciamo un giro di solito per una perlustrazione che ruota attorno alla piazza della libertà attorno alla sala Tripkovic le persone che magari di solito quando si è di fretta o si deve prendere il treno non si notano rispetto alle quali si gira la testa all'altra parte in realtà sono persone che hanno tanto da raccontare questo è un po' il modo in cui lavoriamo parliamo apertamente con chi c'è ma notate il loro numero è cresciuto in questi questo penso Paolo possa essere più sì in realtà no in realtà il numero è diminuito direi rispetto a prima pre-pandemia un po' perché la maggior parte delle persone che provenivano dall'area balcanica sono un po' ritornate durante il periodo in cui il discorso vaccinazione era un po' più forte sono tornato un po' tra virgolette fuggendo dalla normativa locale qualcuno ritorna poi insomma è sempre stata una presenza che non ha mai un numero preciso ma a volte sono pochi a volte sono tanti tanti quindi numericamente però mediamente direi che ultimamente la realtà dei senza fissa dimora è diminuita nella nostra città mentre magari nelle grandi metropoli dove ci sono spazi magari nascondersi un po' di più vivere ai margini invece la realtà è molto aumentata io ho letto delle cose preoccupanti sulle città americane robe San Francisco poi dopo è anche vero che è facile descrivere le città in un certo modo ma le cose che ho letto di San Francisco parlano di una di una città come dire dove questo tipo di problema ha assunto proporzioni spallorditive soprattutto negli anni della pandemia perché hanno fatto degli investimenti secondo l'articolo che io ho letto sono stati fatti degli investimenti sbagliati per quanto riguarda l'assistenza ma queste sono problematiche la realtà di Senza Fissa di Mora è sempre più metropolitana a livello di grandi metropoli infatti anche come Sant'Egidio noi utilizziamo questo termine che facciamo il giro in realtà il nostro giro è un giro molto piccolo perché il giro a Roma vuol dire andare veramente in giro per tutti i quartieri di Roma perché c'è una realtà molto sparpagliata qui a Trieste abbiamo iniziato il 2003 e questo è un dato che non è quasi mai cambiato la realtà è polarizzata proprio attorno alla zona della stazione centrale è difficile se non in casi singoli trovare in periferia delle persone senza Fissa di Mora e quando sappiamo che ci sono tendiamo comunque ad andare incontro anche come dire riserviamo sempre qualcosa per queste persone che sappiamo stare o ruotare attorno a zone diverse della città poi ritorniamo su questo però c'è l'altro immagino grande problema che è quello che ha a che fare con il conflitto fra Russia e Ucraina e anche là noto che anche a livello di comunicazione e questo è anche inevitabile per certi aspetti nel senso che nei primi mesi perché ormai cos'è dunque quattro mesi no quattro mesi circa circa no tre 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 nelle prime settimane allora correcco nelle prime settimane c'era un'attenzione abbastanza specifica nei confronti anche dell'accoglienza eccetera adesso come sempre succede questo tipo di attenzione da parte dei giornali da parte delle televisioni viene un pochettino meno ci si concentra di più su quello che sta succedendo proprio in loco perché le cose che si conoscono sono abbastanza terribili però immagino che appunto il lavoro di accoglienza e di attenzione poi nei confronti dei profughi che arrivano dall'Ucraina sia continuo è continuo confermo comunque quello che diceva c'è un momento di stallo di questa attenzione di questa ondata emotiva che all'inizio era molto alta come purtroppo è avvenuto per l'Afghani anche per l'Ucraina che sembrava un po' diverso in realtà si allenta un pochino l'interesse questo è un dato da tenere conto però al di là di questo il flusso continua il flusso di profughi continua noi nella nostra sede di via Romagna ne riceviamo al sabato decine di famiglie continuamente con le più le richieste più sbariate e non ultima la richiesta appunto di ospitalità perché il sistema di accoglienza diciamo istituzionale sta reggendo perché è stato orchestrato bene a livello di prefettura il coordinamento ma evidentemente con un afflusso continuo a un certo punto i posti si riempiono anche il comune ha fatto questo sistema di coordinamento delle accoglienze in famiglia che anche qui stiamo arrivando un po' ai margini della saturazione quindi è chiaro che le realtà come la nostra come Caritas con altre realtà ci occupiamo anche di cercare delle soluzioni alternative laddove possibile nella collocazione di queste persone mi piace ricordare qui perché anche noi vogliamo iniziare un'accoglienza presso la nostra sede di Via Romagna e colgo l'occasione per ringraziare la fondazione Casali che ha erogato un contributo per la nostra comunità per riallestire all'ultimo piano della nostra sede un'area dedicata proprio all'accoglienza quindi accoglieremo un nucleo familiare nel frattempo continuiamo sempre a fare da collettore tra domanda e offerta ci sono ancora famiglie che si propongono per l'ospitalità e quindi noi siamo un archivio diciamo di queste disponibilità e continuano ad esserci delle richieste chiaramente da parte dei profughi direttamente o soprattutto da parte delle badanti che sono iscritte al nostro centro già da qualche anno che intercettano i loro familiari in arrivo e quindi si trovano in quelle situazioni in cui un appartamento di 40 metri quadri con 7 persone comincia a essere complicato tra l'altro voglio dire ci sono poi anche da sottolineare ogni volta che si può quelle iniziative che vedono coinvolte anche altre realtà magari sto pensando al Tartini che ha accolto 6 7 mi sembra non è cresciuto non c'è uno in più 7 studenti poi insomma sono quelle cose che certamente ti danno l'idea che chi può fa ecco insomma infatti la prima famiglia che abbiamo accolto che è sistemata ora a Borgo Grotta Gigante grazie a una disponibilità molto generosa di una famiglia i figli sono stati inseriti immediatamente nel circuito scolastico uno alle superiori uno alle medie uno alle elementari devo dire che e questo deve essere la cosa fondamentale il sistema di istruzione ha fatto veramente quello che poteva cioè allargando le maglie e cercando di agevolare in tutti i modi questo l'abbiamo visto un po' in tutti i reparti diciamo della scuola posso chiedere anche a voi due invece un'opinione insomma così tanto per raccogliere più opinioni possibili c'è non so consapevolmente o meno questa questa deriva che abbraccia anche il mondo culturale nel senso di io ho sentito che è stato cambiato il titolo di un film che mesi fa era stato deciso in Z per non urtare la suscettibilità per non urtare gli ucraini visto che Z è il simbolo peraltro neanche sapevo qualcuno ha anche ironizzato dice allora non faremo più vedere Zorro c'è c'è questo che un po' fa da curioso non contraltare perché per l'amor di Dio alle bombe e a quello che si vede quello che si viene a sapere non è che questo possa fare da contraltare però c'è questa strana schizofrenia che credo sia tutta occidentale perché che non riesco a inquadrare perfettamente perché è già da un po' di anni che c'è questa deriva della cancel culture come la chiamano la cultura che c'è le azioni che mettono in dubbio capisaldi del cinema so che lei è un cinefilo quindi via col vento accusando appunto di razzismo quando è chiaro che tutto va contestualizzato nell'epoca in cui è stato girato credo che l'arte in generale debba avere un lascia passare un po' in tutto perché se no se cominciamo ad arginare tutte le forme artistiche dal cinema alle altre espressioni credo che ci autolimitiamo se persino Israele ha fatto i conti con Mahler e non con Mahler con Wagner certo insomma vabbè comunque questa è una io condivido appieno l'opinione di Paolo e aggiungo che secondo me comunque un paese o un popolo per dirla non nel senso dispregiativo del termine ma per indicare proprio le radici dello stesso e per l'appunto senza radici senza memoria è un popolo che è acefalo non sa dove andare non va da nessuna parte e come dire la memoria mi viene da dire la speranza del futuro cioè senza memoria non c'è non si possono neanche ripercorrere come dire i passi che si sono fatti e che hanno consentito di evitare determinati errori quindi la cancel culture secondo me come diceva Paolo è un qualcosa che veramente svilisce impoverisce non solo la cultura ma le nuove generazioni quindi è fondamentale invece come dire fare opinione contro questa presa di posizione che è nata negli Stati Uniti come molte cose e che secondo me non bisogna far radicare qui purtroppo su questo io ho delle posizioni addirittura molto più io sono da apro e chiudo parentesi proprio perché mi sono formato insomma universitariamente eccetera con una cultura che proveniva dagli Stati Uniti mi sento ancora posso pensare che Frank Capra non sia mai esistito da quello che sto vedendo in questi in questi ultimi mesi e questo da un lato mi nervosisce dall'altro devo dire mi turba mi turba un po' Enea Bordone c'è vediamo se anche voi della vostra generazione avete questa questa percezione c'è una percezione che riguarda la nostra città che vuole Trieste essere una città molto in apparenza molto dura molto distante se vogliessimo usare un termine quasi detached come è cominciato a dire ma in realtà vedo già che sorridi ma in realtà molto più disposta a venire incontro alle persone rispetto a quanto sia appunto disposta a far vedere lo riscontrate anche voi giovani questo? Sì risponderò citando una poesia Trieste è come un ragazzaccio aspro e orace con le mani troppo grandi per regalare un fiore penso che si addica perfettamente alla nostra città semplicemente boh perché poeticamente rende l'idea il triestino sarà qualcuno che in un primo momento dirà di no ma poi secondo me sarà disposto a dire di sì e disposto ad aprire la casa quindi va capito e come ognuno ha i propri tratti della personalità ma penso che sia una città proprio per una questione di radici non solo multiculturale ma abbia sempre vissuto quel respiro che è più ampio e come dire transnazionale dovuto a ragioni storiche che la rende un crocevia di popoli di culture si pensi anche all'esempio religioso è una delle città con più multiconfessionale interreligiosa che ci siano che ci sono quindi come dire questo va mantenuto e questo consente di crescere e di renderla come dire sempre aperta a delle persone ecco e in una situazione proprio come quella triestina che ha appunto queste caratteristiche molto molto particolari eccetera il vostro lavoro è più facile o è più difficile no è molto facilitato perché un altro esempio perché oltre al discorso delle tante confessioni Trieste è anche un'anima molto laica profondamente laica e questo per una realtà come la nostra che è figlia della chiesa sulla carta potrebbe essere un problema invece non lo è assolutamente nel senso che tantissime persone fanno volontariato o comunque si avvicinano a Sant'Egidio proprio riconoscendo anche questa forza benefica dell'aiutare dell'essere a disposizione portando anche la propria identità laica spesso questo avviene così un dialogo veramente bello e profondo tra credenti e non credenti perché il vero laico non è chiuso esatto non c'è più un muro ideologico tra questa spesso c'è stata anche una contrapposizione un po' sterile diciamo tra laici e credenti per usare due categorie così invece c'è una collaborazione proficua molto intelligente un dialogo vero anche nelle cose nel fare e si crea anche uno spazio vitale proprio bello che fa bene alla città e fa bene sia ai credente che al non credente c'è questo scambio qualcuno mi accuserà di essere monomaniaco nei miei riferimenti però io ogni volta che sento il discorso del rapporto fra laici e credenti penso sempre a una frase che disse Tognazzi che era notoriamente non un mangiapreti ma comunque uno che una volta disse ma no io sono laico però dice quando ho un problema guardo lassù quindi dice qualcosa deve essere che fai contrattare invece con una cosa molto più cinica che disse Alberto Sordi che invece era conosciuto per essere molto ma sì sì dice io credo non si sa mai io condivido condivido anche io le parole di Paolo se mi permette direi soltanto una cosa che come diceva lui la carità non conosce etichette quindi anche quando lavoriamo noi ragazzi lavoriamo in modo vero genuino non c'è voi fate apposta allora per stuzzicarmi su paragoni cinematografici c'è Don Peppone Camillo Camillo c'è la scena in cui entrambi dipingono le statue del presepe e quello è quello è insomma grande grande serie grande grande libro certo ancora prima allora siamo già siamo verso la chiusura allora ricordiamo appunto la sede è sempre in via in via di Romagna 22 22 ogni sabato pomeriggio per chi ha piacere di incontrarci siamo operativi e qua anche per conoscere un pochettino certo non solo per segnalare situazioni chiaramente noi siamo sempre ricettivi non poniamo limiti a questo però anche per conoscerci per incontrarci per vedere un po' la nostra realtà siamo sempre lì insomma ogni sabato pomeriggio più o meno dalle 4 alle 7 ecco per essere più e lui possono venire anche eventualmente i giovani per conoscere certo poi il volontario in caso dei giorni magari lo spostiamo tra le rette e sulle serate del venerdì nel caso di universitari però in sabato ci si può assolutamente facciamo così la prossima volta che venite mi portate se riuscite uno di questi ragazzi che fa come dire che fa la scuola che è una cosa che a me piace l'idea piace tantissimo e devo dire la verità è bellissima anche perché probabilmente poi si dà anche loro una come dire un'opportunità anche di di capire se sanno insegnare assolutamente che non è non è male è una grande scuola il volontariato neanche una grande responsabilità in quel caso allora noi chiudiamo questa puntata di Trieste in diretta vi ricordo che quest'oggi essendo giovedì c'è anche l'appuntamento con Ring alle ore 21 e vi ricordo anche che noi torniamo domani come sempre alle 17.30 domani è venerdì essendo venerdì c'è anche lo spin off di Trieste Arte in questa puntata di Trieste Arte parleremo non di un quadro o di un palazzo o di altro ma ogni tanto lo facciamo parliamo di letteratura e affronteremo la figura una grande figura che ha degli addentellati con Trieste che è quella di Natalia Gingsburg un'altra grande laica tra l'altro se vogliamo una delle mie autrici preferite è grandiosa ha sfondato una porta aperta grandiosa quindi la professoressa Benussi ci parlerà di Natalia Gingsburg nella prima parte invece avremo parleremo del Teatro Verdi sapete che tra un po' va in scena una nuova edizione del Rigoletto grazie allora a Paolo Parisini e a Denea Bordon della comunità di Sant'Egidio per essere stati con noi buon lavoro grazie e noi ci vediamo appunto domani alle 19 ah eh sì alle 17.30 arrivederci c'è sempre sto momento questo spazio è realizzato in collaborazione con fondazione CR Trieste grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti